I tetti verdi svolgono due funzioni, ci proteggono dall'eccesso di calore estivo e intercettano una parte di quelle piogge sempre più intense che possono generare delle alluvioni urbane. Abbiamo previsto tutto con il flat residenziale, abbiamo introdotto dei nuovi sistemi di copertura piana ad uso di residenziale a partire dalla copertura piana adibita a terrazza al verde estensivo in maniera tale da offrire tutte le soluzioni nel mondo delle coperture e dell'impremeabilizzazione.